Per i Cassa Integrati Toscani si preannuncia un altro mese difficile. Per altri 30 giorni circa, infatti, i lavoratori che dall'inizio dell'anno sono in attesa di ricevere i soldi della Cassa Integrazione Inderoga saranno costretti a fare i conti con le lungaggini burocratiche. Il ministro Fornero ha autorizzato l'Inps a pagare la Cassa Inderoga per i primi due mesi del 2013, ma avendo bloccato tutte le procedure dall'inizio dell'anno per un mese e mezzo, le pratiche si sono accumulate sui tavoli degli uffici regionali da un lato e su quelli dell'Inps dall'altro. Il sistema informatico dell'Istituto di Previdenza, poi, è in grado di raccogliere ed elaborare solo 180 richieste di autorizzazione alla volta, quindi prima che i lavoratori possano tornare ad incassare, passerà all'incirca un mese. Uno spiraglio di luce il ministero l'ha aperto invece perché aveva ancora da incassare i soldi della CIG maturati a fine 2012. Le pressioni esercitate nei giorni scorsi dalle regioni, rappresentate dall'assessore toscano Gianfranco Simoncini, hanno spinto il governo a trovare 200 milioni per garantire a 100 mila lavoratori, di cui 10 mila toscani, almeno due mensilità arretrate. Noi però abbiamo, insieme al presidente Errani, riconfermato al presidente del Consiglio, al ministro Fornero, il fatto che le regioni, ma anche i sindacati, chiedano che lo Stato, che oggi ha trovato 200 milioni, trovi altri 180 milioni che servono, secondo noi, per coprire tutto il 2012. Simoncini però non nasconde i timori per il prosieguo dell'anno in corso. Per il 2013 noi abbiamo un problema serio di copertura per tutto l'anno. Le risorse attualmente disponibili non sono sufficienti per coprire tutto l'anno.